Nuovo sbarco a Trapani, 503 migranti sono arrivati questa mattina in città a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana. Assolto in appello l'imprenditore Mannina alla Corte d'Appello di Palermo assolto ieri perché il fatto non sussiste l'imprenditore trapanesi Vincenzo Mannina accusato di associazione mafiosa. Il liceo classico torna a casa prima della fine dell'anno scolastico, gli studenti del liceo classico di Trapani torneranno nelle aule della sede storica. Tra Cuccia e Arancine oggi la ricorrenza di Santa Lucia è come tradizione spazio alla gastronomia tipica del territorio. E per lo sport e l'impresa si può fare. Così Luca Nizzetto, centrocampista del Trapani Calcio, intervenuto ieri sera a Sporsù del lunedì. Eccoci ritrovati nuovamente in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Nuovo sbarco in città, 503 migranti sono giunti al porto del Moro Ronciglio questa mattina a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera. Vediamo. E' attracata attorno alle 8 di questa mattina al Moro Ronciglio la nave Gregoretti della Guardia Costiera. A bordo l'ennesimo carico di disperati. 503 persone partite sabato dalla Libia che dopo ben tre giorni trascorsi in mare hanno potuto finalmente raggiungere la terraferma. Lentamente avvolti nei loro telitermici abbandonano l'imbarcazione. Negli occhi la gioia di chi è riuscito a farcela. Ad accogliergli la solita task force messa in moto per l'accoglienza. 412 uomini, 70 donne di cui 7 in stato di gravidanza e di un neonati, tutti di origine subsahariana. La carretta del mare sulla quale viaggiavano è stata intercettata nel canale di Sicilia e dopo una serie di operazioni di salvataggio i profughi sono stati trasbordati sulla nave CP920 della Guardia Costiera. Dopo le prime cure ricevute da parte dei sanitari presenti questa mattina al Molo, gli immigrati sono stati trasferiti presso l'otospotto di Comtrada Milo per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. Diversi casi di scambio individuati. I soggetti sono stati isolati e riceveranno tutti i trattamenti necessari. La scorsa notte un altro sbarco era avvenuto a Marettimo. Gli uomini della Guardia di Finanza avevano tratto in salvo 17 uomini, tutti di origine tunisina, che viaggiavano a bordo di un gommone intercettato a largo dell'isola. Anche loro, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, sono stati trasportati presso l'otospotto di Comtrada Milo. Percorre la più grande storia dell'umanità. La Bibbia nel parco, presepe unico e suggestivo. Dalle 18 alle 21, a dicembre il 18, 26 e 27 e a gennaio il 6, 7, 8. Ingresso libero. Ieri la Corte d'Appello di Palermo ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'imprenditore trapanese Vincenzo Mannina, accusato di associazione mafiosa. Un processo iniziato nel 2007 che aveva visto coinvolto anche l'ex deputato Bartolo Pellogrino, che però era stato già assolto nel 2012. L'imprenditore era stato tratto in arresto su richiesta della direzione distrettuale antimafia, a firma dei sostituti Gaetano Pace e Andrea Tarondo nell'aprile del 2007, con l'ausilio delle indagini della squadra mobile di Trapani, allora diretta da Giuseppe Linares, trasferito poi nel 2013 a capo della Dia di Napoli. Nell'operazione finirono in manette altre quattro persone, fra cui l'ex deputato Bartolo Pellegrino, ritenuto cerniera fra mafia e politica, accusato di fare marcimonio della sua carica istituzionale di assessore al territorio e vicepresidente della regione, nonché leader di Nuova Sicilia. Anche per il leone di Guarrato la vicenda giudiziaria finì positivamente. Infatti per lui arrivò nel 2012 la soluzione definitiva in Cassazione per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Gli ermellini dichiararono inammissibile il ricorso presentato dal procuratore Andrea Tarondo, che anche nella circostanza sostenne in aula le tesi della accusa, facendo contestualmente cadere l'aggravante dell'articolo 7 per avere favorito Cosa Nostra, negato al reato prescritto di corruzione. Indagini che proseguivano l'inchiesta al presunto boss Francesco Pace di qualche anno prima, denominata mafia e appalti Trapani, finone infinito che negli ultimi anni è rientrato in quasi tutti i procedimenti giudiziari più eclatanti della provincia, con risultati oggettivamente deludenti per la pubblica accusa. Vincenzo Mannini era accusato di far parte della famiglia mafiosa di Trapani, capeggiata dal Pace. L'imprenditore avrebbe provato ad impossessarsi della calcestruzzi e ricina per conto di Cosa Nostra, con i favori di un dirigente dell'Agenzia delle Entrate, che ne avrebbe sottostimata la valutazione. Questa la tesi degli inquirenti. Una vicenda che fece molto scalpore per l'intervento dell'arroa prefetto Fulvio Sodano, che ne fece fallire il tentativo. Questo a suo dire. Tesi poi sposata nei processi dalla DDA, corroborata anche da alcuni collaboratori di giustizia, fra cui Antonino Birrittella, ex patron del Trapani Calcio, tratto in arresto due anni prima nell'operazione che coinvolse appunto il regente del mandamento, Pace, ed altre dieci persone. Una vicenda giudiziaria lunghissima, durata quasi dieci anni, che ha visto procedere in appello per ben tre giudizi, dopo due rinvii della Cassazione, intervenuta su richiesta di annullamento dallo stesso procuratore generale degli Ermellini. Nel maggio del 2013, nel secondo giudizio d'appello, l'imprenditore di origini valdericine venne condannato a sei anni, sentenza che parzialmente riformava i sei anni e otto mesi inflitti in primo grado, poi portati a sei anni e tre mesi nel primo giudizio d'appello al Tribunale di Palermo. Mannina ha scontato ad oggi oltre quattro anni di carcere. Già la Cassazione aveva chiesto di rivedere il capo di imputazione, nell'impianto accusatorio, configurando all'imprenditore il lareato di concorso esterno e non di associazione di stampo mafioso, formulato in aula da IPM Tarondo e Paci. La stessa DDA, sempre con il sostituto Tarondo e poi Gozzo in appello, aveva fatto rientrare il procedimento nel processo a carico del senatore Antonio Dalì, accusato di concorso esterno, sostenendo che fosse intervenuto da sottosegretario agli interni per fare trasferire Sodano, che si poneva alla svendita della Calciastruzzi e Ricina. Anche nella circostanza, IPM hanno dovuto registrare il non accoglimento delle richieste di condanna da parte dei giudici di merito, che con il rito abbreviato, richiesto dalla difesa, hanno ritenuto di assolvere il parlamentare trapanese, sia in primo che in secondo grado, dalle accuse a lui mosse, prescrivendo però i reati per i fatti antecedenti al 1994. Per Mannina, ora si apre la vicenda delle sue aziende finite in confisca nel corso degli anni, con alcune che navigano in cattivissime acque, come ormai tristemente prassi, quando queste finiscono in amministrazione giudiziaria. Sequestrata dai carabinieri la nuova pista eliportuale di via Palermo a Campobello di Mazzara, avvisi di garanzia per due dipendenti comunali e per il rappresentante della ditta che ha effettuato i lavori. Vediamo. Non c'è stato il tempo per completare i lavori. La pista eliportuale di Campobello di Mazzara da ieri mattina è sotto sequestro. A disporre il provvedimento la procura di Marsala, che indaga su una serie di presunte irregolarità riguardanti la documentazione per la costruzione dell'impianto, dei materiali utilizzati per la realizzazione della struttura di via Palermo, nonché nella fornitura dell'impianto elettrico volto a garantire i doni e illuminazione alla superficie luportuale per il decollo e l'atterraggio dei veivoli impegnati in operazioni di soccorso pubblico negli orari notturni. I carabinieri della compagnia di Mazzara, di concerto con i militari della stazione di Campobello, hanno eseguito diverse perquisizioni presso gli uffici e le abitazioni di un dirigente e un funzionario del comune di Campobello di Mazzara, destinatari di due avvisi di garanzia. Per i magistrati del Tribunale Libertano, i due avrebbero commesso degli illeciti nel rilascio delle attestazioni. Un terzo avviso di garanzia è stato notificato alla rappresentante legale della ditta che ha effettuato i lavori. Le opere della nuova pista eliportuale, cofinanziata dall'Unione Europea, costata 400 mila euro, è stata quasi completata. Per procedere alla inaugurazione mancavano gli ultimi provvedimenti autorizzativi, tra cui quello dell'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, organo preposto alla regolamentazione tecnica, alla certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile. Grande partecipazione all'incontro svolto con gli studenti di alcuni istituti trapanesi al Salone di rappresentanza della Camera di Commercio di Trapani sul tema Mediterraneo, esperienza, tradizioni e salute, proposto dallo sportello antiviolenza Diana e dall'associazione Cotulevi, al trattare il tema il dietologo Giuseppe Vinci, il professor Rosario Muro e il dirigente scolastico dell'Istituto Mazzini Francesco Marchese. L'ex provincia regionale consegna all'Oximenes la sede di Corso Vittorio Emanuele. Prima della chiusura dell'anno scolastico, gli studenti del liceo classico ritorneranno nella loro sede storica. Qui avremo a disposizione 13 classi più dei laboratori, quindi riusciremo in questo momento a portare tutto il liceo classico. Ovviamente è necessario che si attuino una serie di adempimenti burocratici e tecnici che speriamo vengano effettuati entro il primo trimestre del 2017. Quindi abbiamo la possibilità che prima della chiusura dell'anno scolastico il liceo ritorni in quella che è la sua casa madre? Io spero proprio di sì. Ci lavoriamo da oltre un anno. Sono io come dirigente scolastico le varie associazioni da oltre questo periodo perché sono otto anni, nel mese di dicembre è otto anni che il liceo classico ha abbandonato la sua sede storica. Quindi è il momento giusto per poterci tornare a pieno titolo. So che avete messo già in cantiere alcune iniziative. La famosa notte del liceo che è prevista per gennaio. Allora abbiamo una serie di iniziative e la prima sinceramente è quella del FAI. Il 22 dicembre si aprirà questa sede più la chiesa del collegio con il FAI per dare la possibilità ai cittadini e ai turisti di poter visitare questi luoghi. E poi noi come istituzione scolastica assieme alle varie associazioni che ci sono vicine il 13 gennaio speriamo di poter fare la notte del liceo a Trapani in questa sede. Bene, se questa sede è stata al centro dell'attenzione o si deve anche a un famoso sit-in che gli ex studenti del liceo classico qualche anno fa hanno scenato proprio qui davanti per chiedere con forza che venisse a riaperto questo portone del liceo. Maria Laura Oddo. Eccomi, ti ricordi Wally, eravamo un gruppo di ex studenti che appunto ci siamo un po' mossi in questo senso, abbiamo avuto il tuo aiuto per poter fare conoscere ai trapanesi questa nostra iniziativa e sono felice, siamo felici se in qualche maniera abbiamo potuto contribuire a sveltire, a portare avanti questo progetto della riapertura della sede storica perché per noi è veramente tanto, tanto, tanto importante perché sono queste le mura dove siamo cresciuti, dove per tanti anni è stato il liceo classico e quindi in questa sede è identificato il corso di studi. Oggi si festeggia Santa Lucia, alla Santa è legato il voto di non consumare né pane né pasta, sul tavolo quindi oggi riso e cucia. Lucia, martire cristiana, morta durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa, è venerata come Santa dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa. Oggi sulle tavole dei siciliani la cuccia, un piatto povero a base di grano che nel tempo è diventato un vero e proprio dolce con l'aggiunta di vino cotto prima e poi ricotta, creme, nutella e quant'altro. Immancabile anche il riso degli esformati e delle tradizionali arancine. Signora, oggi è un giorno in cui a farla da padrona sono la cuccia e le arancine. Partiamo dalla cuccia. La cuccia è una tradizione tipicamente siciliana, ma come si fa la cuccia? Allora, la cuccia prima si mette un tre giorni prima in acqua, in bagno e si cambia ogni giorno l'acqua, dopodiché si mette a bollire per un paio d'ore, si sciacqua per bene, si fa asciugare e poi si condisce come regola di fare tipo col vino cotto come tradizione trapanese, mentre da io palermitana la facciamo come tradizione di Palermo con la ricotta, canditi e cioccolati o se no con latte, canditi e cioccolato. Da buona palermitana sa anche che oggi oltre che la cuccia e le arancine si mangia cosa? Le panelle, le crocchè e le pignatelle e anche le rascature, detto in gergo palermitano. Sabrina, abbiamo sentito un po' come si prepara la cuccia, tu invece curi particolarmente le arancine. Come nasce un'arancina? Allora, le arancine noi le prepariamo, facciamo prima il riso, tipo risotto, praticamente con acqua, zafferano, burro e parmigiano abbondante. Lo facciamo asciugare proprio come per fare il risotto, lo mettiamo ad asciugare, quando è freddo lo impastiamo e lo facciamo a forma di arancina, diciamo rotonda e poi diamo le varie forme rispetto ai gusti perché ormai sono di moda diversi gusti, mentre la tradizionale era con ragù e con prosciutto e mozzarella, ora ci sono svariati gusti tipo melenzana e mozzarella, con frutti di mare, al nero di seppia, oppure quest'anno abbiamo voluto cambiare, abbiamo fatto quelle con ricoperte di passasfoglia e per quelli diciamo che mantengono la linea sono fatti al forno e non fritte. Questo pomeriggio alle 17 in occasione di festeggiamenti di Santa Lucia si svolgerà a Paceco nella piazza Vittorio Emanuele la Sagra della Cuccia, manifestazione storica organizzata dall'Associazione Teatro e Tradizioni Popolari di Paceco in collaborazione con la Proloco Paceco Onlus, giunta alla sua ventunesima edizione che prevede la distribuzione gratuita della Cuccia condita con vino cotto, ricotta o crema al cioccolato, il tutto all'interno degli stand appositamente collocati. Continuano invece al Molino Excelsior di Valderice i mercatini di Santa Lucia, questa sera ultimo appuntamento tutto all'insegna della Cuccia. Cassatelle, imbrodo e ricotta calda hanno caratterizzato ieri al Molino Excelsior di Valderice la seconda serata dei mercatini di Santa Lucia, evento organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Proloco, oltre alla degustazione spazio anche a concerti strumentali, canti natalizi, letture di antichi poemi e balli folcloristici. Stasera, terzo e ultimo atto della manifestazione. Il tema della serata sarà Acucia di Santa Lucia, ma si potranno degustare a partire dalle venti anche le Arancine e il Vimbrulè, grazie alla collaborazione tra le associazioni locali Arce Scrocci e Hauser Fico con Michele San Martano. E poi, musica a cura del gruppo Petit Ensemble e la processione delle damigelle di Santa Lucia portate in scena dalla compagnia Amici di Nino Martoglio. Gli stand degli espositori resteranno aperti fino a mezzanotte. Le isole Egedi in piena atmosfera natalizia sabato, l'inaugurazione del villaggio di Santa Claus. Continuano a Favignana i preparativi per il villaggio di Santa Claus che verrà inaugurato sabato alle 18.45 in Piazza Matrice. Si tratta di un evento che negli scorsi anni ha radunato sia i bambini dell'isola sia le persone adulte. Il villaggio ospiterà un parco giochi che sarà aperto dalle 17 alle 20 con degustazione dei prodotti tipici, racconti di fiabe da parte di un'equipe di animatori, balli, canti e tanto altro. Il villaggio di Santa Claus è nato dalla collaborazione tra le associazioni del luogo che con il patrocino del comune hanno coinvolto altri volontari per allietare il Natale dei residenti. A Levanzo è stato addobbato e illuminato l'albero per accogliere le persone che vogliono godere del fascino della natura esolana. A Maretti Menoltre è stata allestita la barca di Natale e il piccolo presepe realizzato con luce a risparmio energetico. Le iniziative organizzate dall'associazione culturale con il patrocino del comune vedranno i residenti riunirsi nei locali dell'oratorio parrucchiale grazie ad un programma ricco di condivisione con Babbo Natale e animazione a scuola con distribuzione di regali e nei giorni a seguire le spinge di Natale, Tombola e giochi di società. Natale con i ragazzi del Campo Bianco e la manifestazione promossa dal Moica di concerto con la Cisle all'Anteas Provinciale. L'iniziativa è in programma per questo pomeriggio alle 16 nella ludoteca del Campo Bianco. Prenderanno parte all'iniziativa il presidente Anteas Provinciale Alessandro Barbata, il segretario generale della FNP Cisle Palermo Trapani Mimmo Di Matteo, la segretaria della FNP Cisle Palermo e presidente del Moica Teresina Fodale e la responsabile della ludoteca del Campo Lea Perrone. Previsto un breve momento musicale a cura del maestro Francesco D'Antone. E si è conclusa a Palazzo Cavarretta a Trapani una mostra sugli acquari a cura dell'allestitore Antonino Genova. Lo abbiamo ascoltato. L'idea nasce da una profonda passione che nutro nei confronti di questi animali. Del mio hobby ne ho fatto il mio lavoro. Sono felicissimo di poter mostrare al pubblico i miei capolavori, li posso chiamare così. È stata una cosa che sinceramente non mi aspettavo. Non credevo che il pubblico si avvicinasse così tanto a quello che è il mio settore. Dal classico pesce rosso al pesce un po' più particolare che può essere lo scorpione, alla murena, un po' a tutto. Ho cercato di portare animali che magari il pubblico non ha mai visto di presenza. Ho portato più basche sia d'acqua dolce che d'acqua salata proprio per far vedere le distinzioni tra i due elementi acqua, l'elemento salato e l'elemento dolce. Chiaramente una vasca d'acqua dolce non ha la stessa tempistica di una vasca marina. Una vasca marina ha bisogno di mesi di maturazione. Di norma parlano gli acquari, cioè i valori dell'acqua mi fanno capire quando realmente è possibile introdurre determinati elementi o determinati coralli all'interno delle vasche. Una vasca d'acqua dolce è molto più semplice da gestire ma se si ha una buona preparazione di base, un minimo di chimica, si riescono a fare bei capolavori. Con pochissimi materiali si riescono ad allestire le vasche di certi livelli con criterio. Il calcio allenamento pomeridiano per il Trapani si gioca venerdì sera in casa contro il Frosinone. Ieri sera a Sport Sud le lunedì è intervenuto il centrocampista del Trapani Luca Nizzetto che ha parlato dell'ultima partita e anche del nuovo allenatore. è stata una settimana dove comunque il mister si è fatto conoscere, ha introdotto il suo credo e abbiamo lavorato parecchio e abbiamo cominciato da capo praticamente. Lui giustamente ci conosceva già bene perché anche lo staff per dire ci conosceva tutti per nome, erano preparatissimi e tutto. Avevano studiato. Sì, insomma noi penso che abbiamo fatto una settimana cercando di essere più disponibili possibile e loro uguale. Avevamo voglia di andare in campo e di dimostrare che c'eravamo e penso che la partita sta preparata bene e penso che si sia visto anche in campo. Volevamo dimostrare di poter in un cammino che è ancora lungo credo perché le partite sono ancora tante, i punti a disposizione ci sono. So che siamo sempre a dire che la classifica è corta però la verità è quella perché siamo lì e penso che e spero che a Chiavari abbiamo messo un piccolo tassello per la fiducia soprattutto che è quella che a noi manca in questo momento e una volta ripresa quella credo che le qualità per poter fare questa impresa che penso sia equiparata all'impresa che stavamo per fare l'anno passato si possa fare. La nostra squadra è una squadra caratterizzata dalla qualità soprattutto in mezzo al campo abbiamo giocatori che fanno della tecnica e della qualità la loro arma migliore però allo stesso modo lui ha detto io ho una squadra tecnica con della qualità ma se la qualità non si abbina all'aggressività, alla corsa, all'entusiasmo non ci facciamo niente quindi su questo soprattutto ha lavorato ed è una cosa a livello mentale. La convinzione la convinzione c'è ma c'era anche nelle altre partite perché ripeto la qualità dei giocatori e quello che ognuno ogni giocatore ha dentro di sé è quello. È chiaro che in determinate occasioni riesce a metterli in campo riesce a farlo vedere e in altre occasioni no. L'ambiente, il clima che si risperava sabato era quello di voler dimostrare e quindi ognuno di noi voleva dimostrare le qualità sul gol, su tutti i gol, sui due gol che abbiamo fatto penso che le qualità si vedono perché Nicola fa uno stop da giocatore vero, mette la palla dietro, Igor la mette a fil di palo, il secondo gol è uguale. Le caratteristiche sono quelle, è inutile provare a cambiare caratteristiche che non abbiamo però se alle caratteristiche, alla qualità che abbiamo ci abbiniamo anche a quel qualcosa che probabilmente ci è mancato possiamo fare bene ed è quello che il mister vuole, quello che il mister ogni giorno ci dice di migliorare, che ci sono ampi margini di miglioramento ma dobbiamo essere noi primi a crederci e a lavorare per migliorare questo. Adesso il basket, allenamenti intensi per la pallacanestro Trapani che scenderà anche lei in campo venerdì sera alle 20.30. Reggio Calabria ma torniamo alla vittoria di domenica contro Siena ed ascoltiamo le parole del coach Ugo Ducarello. Abbiamo giocato una partita molto particolare perché onestamente non ci aspettavamo che Siena venisse qui a fare 40 minuti di zona dove ha cercato onestamente di ispitarci al tiro da tre punti e noi nella prima parte abbiamo tirato con basse percentuali col 13% al tiro da tre punti. È chiaro che qualcosa non è andata, non abbiamo attaccato per bene la difesa zonata soprattutto nel primo quarto dove c'era poca circolazione di palla, non facevamo muovere la difesa, non cercavamo di mettere la palla dove di solito la mettevamo nelle partite precedenti contro le difese zonate e nulla. Dopo abbiamo avuto la fortuna di difendere comunque nel secondo quarto, di fare uno strappo di 10 punti però commettiamo troppe ingenità, troppe palle perse, nel primo tempo mi sembra che erano 7 le palle perse, alla fine siamo finiti con 16 palle perse e lì credo che merito va anche alla difesa di Siena che ci ha incastrati per bene, però dall'altra parte abbiamo commesso noi stessi degli errori troppo banali, troppo da squadra ingenua e non esperta, credo che nel terzo e nel quarto quarto abbiamo attaccato un po' meglio la difesa cercando di mettere comunque la palla e a Carlito in postalto e allo stesso tempo anche a Damien e poi la squadra è stata molto brava a cercare di mettere in ritmo un tiratore che per noi è importante che è Dream Macy che è riuscito a spaccare la partita. Questa partita che è stata una brutta partita secondo me, da vedere, sono due punti importanti e quindi sono molto contento e faccio i complimenti a tutti quanti. Andiamo a vedere invece come è andata per le trapanesi in questo weekend nei campionati di eccellenza, promozione prima e seconda categorie. Nella quattordicesima giornata del campionato di eccellenza il paceco del mister Chianetta viene fermato dal Gela, ne approfitta la Riviera Marmi che continua a stupire e vince lo scontro diretto contro l'Alba Alcamo salendo al secondo posto. Altro scontro diretto in zona playoff vinto dalla Folgore che può sognare in grande. Il dattilo del mister Formisano sembra che abbia risolto i suoi problemi e si libera delicata la zona playoff. È vicina come vicina alla zona salvezza per il Mazzara che ha vinto un match importante che la fa salire ancora più in alto. Il Marsala viene abbattuto facilmente anche dal Castelbuono e rimane penultimo. Nella quattordicesima giornata del campionato di promozione consolida la sua permanenza in zona playoff il Castellammare che vince ancora scende il Campobello che ha perso lo scontro diretto importante per avvicinarsi alla zona playoff. Il Salemi rimane terzo ultimo in classifica nonostante la sconfitta. Infine pur giocando bene il Cinque Torri perde la sfida contro la capolista e la salvezza è sempre più lontana. Nella dodicesima giornata del campionato di prima categoria vittoria importante nella capolista nuova sportiva del golfo che abbatte lo Strasatti ormai in caduta libera. Altro colpo di scena in zona playoff perché lo Sciacca ha perso non solo il match ma anche la seconda posizione. Infatti ne approfitta il Fulgatore che vince e convince tutti. Altro crollo della Libertas Marsala che vede solo il buio attorno a sé. Nell'ottava giornata del campionato di seconda categoria vittoria importante per il Valderice che rimane in scia del Gibellina. Altra vittoria importante per il Custonaci che sale in zona playoff e gli fa spazio il bianco arancio. Brutta sconfitta dell'Alcama che scende ancora. La Juvenile non sa vincere e rimane sempre ultima. Chiudiamo con gli appuntamenti su Tele Sud di questa sera. Alle 20 e 30 a mezzanotte trasmetteremo un incontro di basket e pallacanestro Trapani-Menzana-Siena. E adesso pubblicità ma torniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione del Tg. Vi aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.